Caio è un vero spasso, te l'assicuro. Ma io non mi diverto di stare con tu. Mi spiace tanto. Scusa, papà. Per colpa del mio orgoglio tu hai dovuto lasciarci. Ti prego, perdono. Basta. Gohan, non devi essere triste, capito? Io sarò sempre accanto a te e alla mamma e a tutti quelli che mi vogliono me. Basterà solamente che voi mi pensiate. Sì, però... Se sei dispiaciuto per me, perché non provi a vendicare? Coraggio, questo è il tuo momento. Sì, ti vendicherò. Come fare il Gohan? Aiuti, si prepara a combattere. Basta. E-ne-er. 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 No cos'è mi piace, ragazzi. E-ne-er. E-ne-er. E' giunta la vostra fine! E' giunta la vostra fine!